Sapori reali sotto l'albero, questo è il nome dell'iniziativa organizzata dall'assessorato alle attività produttive del comune di Favara, che da oggi fino a sabato si tiene al castello Chiaramonte. Lo scopo dell'iniziativa è quello di promuovere e diffondere il consumo dei dolci tipici in pasta reale anche nel periodo natalizio. Infatti nella città di Favara, capitale siciliana dell'agnello pasquale, diverse sono le persone che specie nel periodo pasquale vengono da ogni parte della regione per comprare il dolce di mandorla e pistacchio. L'obiettivo dell'assessore nobile quindi è quello di presentare ai visitatori dei dolci preparati con le stesse modalità dell'agnello, ma che assumono forme diverse, come ad esempio l'albero di Natale. Nell'organizzazione di sapori reali sotto l'albero sono stati coinvolti i pasticceri locali che hanno offerto i loro prodotti, che poi sabato prossimo verranno offerti a quanti si regheranno al castello. Mostra che ha registrato la partecipazione di tutte le pasticcerie, di tutti i bar locali di Favara, i quali hanno voluto omaggiare questo bel dolce, di questo bel dolce, la cittadinanza intera. Anche le scuole parteciperanno all'iniziativa, infatti oggi una delegazione degli studenti dell'Istituto Tecnico per Geometri Brunelleschi di Agrigento hanno visitato la mostra di dolci allestita presso la sala del collare. Quest'incontro, anche non solo con le scuole di Favara, ma anche con le scuole dell'Inter Lanti, può essere utile a incentivare questa nostra ricchezza. Un auspico che si dia continuità a un'iniziativa già largamente intrapesa negli anni passati, ma che sia collegata a un contesto più ampio di iniziative. Indandosi all'assessorato che alla Commissione Consigliare alle pare opportunità, hanno organizzato per sabato prossimo nella Chiesa del Rosario alle ore 19.30 il Concerto della Solidarietà, dove il coro polifonico Gerusalemme di Favara eseguirà i tradizionali canti di Natale. Invitiamo quindi tutta la cittadinanza e tutte le associazioni che sono presenti sul territorio ad essere presenti, veramente che sia un momento di solidarietà da condividere tutti assieme.